La situazione meteorologica sulla regione per i fini settimana vedrà ancora l'afflusso di correnti nord-occidentali in quota che gradualmente domenica vireranno a sud-ovest nei bassi strati per l'affermazione di un promotore di alta pressione. Queste saranno anche più umide. Andando con ordine, la giornata di sabato vedrà cielo in prevalenza poco nuvoloso per il passaggio di velature in alta quota da nord-ovest verso sud-est. Venti generalmente deboli sulla regione, temperature in lieve caro di valori minimi con delle gelate che potranno interessare oltre che i fondovalle della montagna anche la pianura. Temperature più umidi, intorno ai 5-8 gradi nei valori minimi sulla costa. Massimi intorno ai 12-14 gradi sia in pianura che lungo la costa. Domenica sarà una giornata che inizierà sulla falsariga di sabato nelle prime ore, quindi prevalentemente soleggiato con cielo poco nuvoloso. Poi avremo un aumento della nuvolosità essenzialmente a quote medio-basse e delle foschie e delle nebbie inserata su pianura e costa per il ristagno di aria più umida. Tempo un po' migliore sulla fascia alpina ma con zero termico che salirà a 3.000 metri sabato e poi a 3.800 metri domenica, quindi con temperature molto miti in quota. Più miti in quota che a fondovalle nelle ore notturne. Temperature stazionarie nei valori minimi sulla pianura e sulla costa, massime in lieve calo di circa un grado rispetto alla giornata di sabato. Un veloce peggioramento lunedì con qualche pioggia che però si risolverà rapidamente nella giornata di martedì con un miglioramento e afflusso di correnti di bora moderate. È tutto dallo servizio del metro dell'ARPA, Arturo Pucillo, vi saluta.